La tenerezza è sexy Selena Gomez dolcissima con i suoi fan, la tenerezza è sexy I suoi Selenators la adorano come una dea. Anche Instagram ha compreso il potenziale di questa stellina che fa una musica tutta speciale, e ha un aspetto da ragazze della porta accanto che piace anche alle mamme Selena è così come la vediamo, sempre fantastica, e lo dimostra soprattutto a me e a Gre con i suoi fan più piccini Selena Gomez, un'icona di gentilezza. Possiamo citare un'infinità di episodi in cui Selena Gomez non si è dimostrata solo un'artista formidabile, ma anche una ragazza dal cuore grande così Negli ultimi tempi, il suo rapporto con i fan si è fatto più intenso che mai a seguito di una serie di dichiarazioni pubbliche, tra cui la diagnosi del lupus, e il conseguente trapianto di Renne che tanto ha fatto parlare rotocalchi In tutto questo, Selena però non ha mai perso la sua ispirazione e, soprattutto, il sorriso. Nell'ultimo video di ispirazione con i suoi fan, Selena incontra una bambina con il tuttu rosa che si fionda, estasiata, tra le braccia del suo idolo La bambina è talmente emozionata da lasciarsi trascinare in un abbraccio che le fa ruzzolare dolcemente in terra, dove rimangono a parlare, guardandosi negli occhi, per qualche minuto La scena, imperdibile, è stata accolta da una serie di esclamazioni estasiate e forse un pochino invidiose di tutti i fan che stavano facendo la fila per avere un momento di gloria con Selena Grazie per la visione